C'è il pressing alto di Osni, lo supera bene Gicola che poi va all'uno contro uno e c'è Bechiri che non riesce a superare Serra, ottimo l'intervento del portiere avversario, poi Beretta, si libera bene, va al tiro e segna il gol dell'1-0, quando siamo al quarto minuto di gioco, Gicola per Vella, pari a entrare bene sul sinistro ma lo fermano, ora Osni a sua volta recupera Vella, ancora lui che si lancia, la conclusione è il gol del 2-0 quando siamo all'ottavo minuto di gioco, bella conclusione questa da parte di Vella. La storia di Regicola centralmente, Bechiri ancora per Gicola e la palla resta lì, può partire il contropiede dell'Enjoy, Michele Luzzi, serve squaratti e c'è l'ottimo intervento di Kandaschuk. Può ripartire questa volta dalla parte opposta alla Virtus che va a realizzare il gol del 3-0 con Beretta, ottimamente liberato al tiro da Bechiri quando siamo al quinto minuto di gioco. C'è il corner, ancora per i padroni di casa, recupera la palla Valencia che è tornato in campo, gliela toglie però Vella, poi Beretta centralmente Bechiri e arriva anche il gol del Bomber, il 4-0 quando siamo all'undicesimo minuto di gioco. Bottone fa girare per Beretta, sempre Beretta e la palla termina in rete, grande conclusione sul primo palo quando siamo al ventesimo, arriva il gol direttamente da corner, Bottone trova questa volta un po' impreparato Serra proprio sul suo palo quando siamo al ventisettesimo.